I nostri ragazzi sono la cosa più preziosa che abbiamo, ma anche la più fragile. E oggi sono a rischio già a 11 anni. Dobbiamo arrivare prima, prima che la loro vita si spezzi. Da 25 anni io ed Exodus siamo dalla parte dei ragazzi. Oggi con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45504 puoi essere al loro fianco per costruire la casa dei ragazzi. 45504 per Exodus. Aiutaci, dobbiamo arrivare prima.